serpentinite per essere sinceri questo è serpentinite una roccia del mantello terrestre roba di milioni di anni quindi le montagne poi si sono alzate e hanno sfasciato questo mantello quindi lo trovi anche in montagna proprio per quello perché loro genesi cioè la la salita delle montagne è stata fatta con la collisione della crosta terrestre delle delle placche tettoniche dei continenti e quindi hanno sfasciato il mantello terrestre l'hanno tirato su quindi anche in montagna trovi serpentiniti vedi proprio perché le montagne hanno alzato tutto quindi però insomma qua sono anche sinceramente posto stupendo adesso parte due copertoni qui disgraziati è vero gol d'oro è un nome che si associa principalmente a un canale youtube molto popolare tra gli appassionati di ricerca dell'oro il creatore del canale di cui non si conosce il vero nome condivide le sue esperienze di prospezione aurifera mostrando le tecniche utilizzate i luoghi esplorati e i risultati ottenuti cosa puoi trovare sul canale gol d'oro tutorial dettagliati imparerai come utilizzare gli strumenti per la ricerca dell'oro come le battee le pale e i metal detector esplorazioni in natura gol d'oro ti porterà nei luoghi più suggestivi come fiumi e torrenti alla ricerca di pepite d'oro documentazione storica il canale approfondisce anche la storia della ricerca dell'oro in diverse regioni raccontando aneddoti e leggende blog oltre ai video dedicati alla ricerca dell'oro troverai anche blog più personali dove gol d'oro condivide la sua passione per la natura e l'avventura perché gol d'oro è così popolare passione contagiosa la passione di gol d'oro per la ricerca dell'oro è evidente in ogni video e questo riesce a coinvolgere appassionare anche gli spettatori contenuto di qualità i video sono ben realizzati e montati con immagini suggestive e musiche coinvolgenti comunità attiva intorno al canale si è creata una vera e propria comunità di appassionati che condividono esperienze consigli se sei interessato alla ricerca dell'oro o semplicemente ami la natura e l'avventura il canale gol d'oro fa sicuramente al caso tuo